Il comandante della polizia locale di Arzachena è stato sottoposto all'obbligo di firma da parte dell'autorità giudiziaria di Tempio Pausania in seguito a una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Sasseri da cui sono emerse svariate violazioni e abusi che sarebbero stati commessi dall'indagato. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio, dottor Grotteria. I militari della Guardia di Finanza infatti hanno potuto constatare, anche mediante l'impiego di telecamere e tracker GPS e intercettazioni telefoniche ambientali, che il comandante era solito assentarsi dall'ufficio per svariate ore al giorno per motivi privati, anche fuori dall'ambito comunale di Arzachena. In alcune occasioni, prevalentemente nei giorni festivi, l'indagato, mentre risultava in servizio, si recava in tenuta balneare lungo la costa Smeralda. Altri reati ascritti all'indagato comprendono l'uso privato dei mezzi del comando della polizia locale, con l'attestazione di falsi ordini di missione e l'impiego di mezzi e personale dai lui dipendenti per la gestione della viabilità lungo la strada adiacente al parcheggio privato di un noto ristorante di Baia Sardinia. Le indagini delle fiamme gialle a suo carico proseguono volte all'accertamento di eventuali altri illeciti.